Crescendo ho imparato a conoscerti diversamente. Abbiamo vissuto tutti momenti belli, momenti brutti e ho conosciuto la donna, la donna grande, una donna speciale che sei stata, che sei e che ha reagito a tutto quello che gli è capitato in una maniera forte, decisa, davvero combattente. Né un esempio il fatto che tu sei qua. Nonostante non siano stati questi ultimi anni facili, non ti sei tirata indietro, ti sei rimessa in gioco. Ho un insegnamento bellissimo che hai dato a me, nonostante non sia più un ragazzino, ma anche a tuo nipote, a Gian Lorenzo. Stop, freeze! Non piangere perché altrimenti diventa una tragedia. No, io piango quanto voglio, perché io non voglio piangere. Continua così, goditela perché noi ti vediamo da casa, tutti quanti. Come state? Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Angelica ti saluta tanto. Anche Ciupi la saluta. Ti salutano tutti, ti salutano tutti quanti. Ti saluta Angelica, Cristina, ti saluta Gioia, ti saluta tuo fratello, Natalia, la Chica. Ti salutano tutti. Ti seguiamo il giorno di Natale, tutte queste feste. Sei con noi anche se sei qua, quindi goditela. Stai con i tuoi compagni di viaggio che ti vogliono tutti bene. Sei felice anche se sei distante dai tuoi affetti più cari.